Siamo tornati nello studio di Caritas Insieme, idealmente continuando un discorso che era iniziato di fatto già il 26 gennaio scorso con una puntata dedicata alla questione della laicità sull'onda delle problematiche che sono sorte con il mancato incontro del Papa all'Università La Sapienza, ma il discorso della laicità non si può concludere lì evidentemente e allora vorremmo continuarlo. Con noi c'è Fulvio Pezzati che di problemi di politica e di queste questioni se ne è già occupato e quindi ci è sembrato importante sentire la sua opinione. Il problema della laicità oggi intanto, a parte che è di moda, ma è vero, è reale? Credo di sì, credo proprio che sia reale e anche per il fatto che se ne stanno occupando un sacco di persone molto più importanti di noi, in primo luogo il Papa, ma un sacco di studiosi stanno dando una grande attenzione a questo tema e per quanto posso capire io mi sembra giustamente perché per una serie di cambiamenti che sono avvenuti nel mondo il tema è ridiventato in qualche modo centrale e mi sembra che sia diventato centrale nel mondo più che in Europa e che oggi sia più interessante avere uno sguardo globale invece di limitarsi all'approccio classico europeo che recentemente si è poi tradotto nel dibattito sull'inserimento della lice cristiana nella Costituzione europea che è un discorso interessante e anche importante, ma la verità è che nel resto del mondo il problema si pone diversamente. nei cinque sesti del mondo non esiste il dubbio sull'importanza della religione, sul fatto che la religione sia un elemento costitutivo dell'identità, delle persone, dei popoli e delle culture. Sì, però esiste sempre il problema, nel senso che qui anche in Europa non si dice, o meglio molti non dicono che la religione non è un problema identitario, ma che è una questione privata, non deve interferire con le questioni pubbliche. Esattamente, però è solo qui che si dice così, è solo in Europa che viene fatto ancora un discorso di questo tipo, l'Europa è importante, naturalmente non possiamo prescindere da questo, però oggi il mondo è diventato molto più piccolo, oggi la gente viaggia, si incontra di persona, si incontra in modo virtuale, via internet, per le televisioni, per le comunicazioni in genere e quindi il rischio di conflitto, il rischio di interferenza è di molto aumentato. Una sfida che ci aspetta nei prossimi anni, decenni, non lo so, è riuscire a costruire in qualche modo un nuovo diritto che in una situazione dove le grandi culture, dalla musulmana alla buddista alla cristiana, alle religioni più animiste si incontrano costantemente, che riescano a incontrarsi senza scontrarsi e senza affrontare i conflitti cominciando a picchiarsi, perché il vero rischio è quello, è il rischio per la pace, quindi è un'indicazione che per me ha dato più chiaramente di tutti l'allora Cardinal Ratzinger nel famoso dibattito con Habermas, quando indicava nella necessità di un incontro interculturale uno dei problemi fondamentali del mondo oggi. Sorge però un problema in questo mondo globalizzato ed è quello della manipolazione dell'informazione, cioè quello del fatto che comunque l'opinione può essere in un certo senso pilotata, per cui per esempio determinati sentimenti religiosi o determinati conflitti con l'esperienza religiosa sono esasperati. Io adesso penso per esempio sempre un po' alla situazione europea dove quasi quasi sembra che tutte le idee sono buone tranne quelle cattoliche. In questo ambito come si fa a muoversi in modo tale che, uno potrebbe dire va bene facciamo la guerra tutti contro tutti, non la facciamo con le armi, la facciamo con i media, ma più o meno lo stesso. Il rischio esiste ed è proprio questa la sfida, quella di costruire un corpo di regole minime comuni, di regole che devono essere forzatamente anche democratiche, che possano essere il terreno minimo di intesa per tutti, che preservi a ognuno la sua identità, che non obblighi nessuno a rinunciare a niente di se stesso, ma che d'altra parte permetta di dialogarci e di risolvere i problemi minimi, che poi tanto minimi non sono, della convivenza, tutti assieme. In questo contesto va integrata anche quella parte di cultura europea che tende, storicamente per un certo periodo, non ha riconosciuto il ruolo della religione, ma poi è comunque riuscita a dare dei contributi positivi, anche questa cultura in termini di costruzione dei diritti dell'uomo, ha riuscita a partecipare anche lei. E quindi oggi bisogna in qualche modo riuscire a trovare un'intesa sui diritti fondamentali, che non è poi così scontato, perché talune correnti musulmane o anche buddhisti, soprattutto africane, tendono a considerare questi diritti fondamentali, i diritti dell'uomo come una pura costruzione europea che non riconoscono. Ecco, costruire questo oggi, quindi attorno ad alcuni temi fondamentali, la libertà di religione, la parità uomo-donna, cioè bisogna proprio cominciare dalle questioni basilari, la grande sfida che stiamo affrontando e la laicità è una componente per poter fare questo. I più catastrofisti dicono che però la libertà di espressione, la libertà di comunicazione sono puramente nominali, poi di fatto si sta come generando, penso sempre ancora all'Europa, una sorta di, come dire, di veto a tutto ciò che è identitario, per cui va bene tutto purché non esprima un'identità. Ma certo, è abbastanza vero, alcuni dei problemi che vediamo qui anche nel nostro piccolo Ticino, anche quelli di cronaca più recente, ci mostrano come la negazione dell'identità a causa poi dei problemi all'individuo stesso, a ogni persona che va poi a cercare una qualsiasi forma di identità laddove la trova, rifugiandosi magari anche nei gruppi violenti, abbiamo visto purtroppo questo recentemente. Quindi è proprio questo, cioè bisogna riuscire a fare ammettere, o dobbiamo ammettere, il problema dell'identità come un problema reale per la costruzione del nostro benessere e dobbiamo risolvere il problema di come queste identità poi dialogano, come non diventano assolute al punto tale da negare l'altro. Intorno alla questione della laicità e del rapporto fra Stato, Chiesa, fede, eccetera, riferito in particolare alla situazione italiana ed europea, è stato scritto in un libro che è stato presentato qui in Ticino. Abbiamo intervistato la sua autrice. Io credo che sia un fenomeno che ha le radici cristiane, questo del dialogo e del dialogo anche tra i poteri, il potere dello Stato e il potere della Chiesa è una idea profondamente cristiana. Cristiana anche nel senso che esistono i due poteri, quello dello Stato e quello della Chiesa e devono essere distinti. Lo Stato si deve occupare delle cose temporali, la Chiesa delle cose spirituali e poiché l'uomo è insieme anima e corpo, devono Stato e Chiesa collaborare tra di loro. Questa è stata una delle rivoluzioni più importanti che Cristo ha introdotto nella storia di tutti. Papini diceva che è un capovolgitore Cristo perché capovolge l'idea del mondo pagano. Nell'età pagana l'imperatore, Cesare, era anche Dio, dunque non c'era distinzione tra potere dello Stato e potere della Chiesa. Il cristianesimo irrompe nella storia di tutti con una novità ed è questa. I due poteri sono distinti ma devono collaborare tra di loro. Oggi è il momento del dialogo tra i poteri e del dialogo tra le religioni. Le religioni hanno molto da dire, quelle che derivano dal ceppo cristiano in modo particolare e hanno molto da dire sul tema della libertà. Abbiamo visto essere elevatrici sagge della democrazia in tutta l'Europa dell'Est e se l'Europa è stata fatta unita deve molto alla concezione cristiana. Ha questa idea che lo Stato debba occuparsi solo delle questioni temporali e non di quelle spirituali. L'Islam ha una concezione non dualistica ma monistica perché la Sharia, cioè la legge religiosa, è anche legge civile e quindi è la legge religiosa che è detta anche la legge civile. Non solo ma la Sharia ha in sé dei principi contrastanti con la religione cristiana. Pensiamo per esempio al disconoscimento dell'eguaglianza tra uomo e donna. Cristo, dicevo, è un capovolgitore nella concezione dei rapporti tra Stato e Chiesa ma lo è anche nei rapporti tra uomo e donna. Famosa frase di San Paolo, davanti a Dio non c'è più né uomo né donna, né ebreo né greco né schiavo né padrone, cioè tutti sono uguali. Maometo non accetta questo, l'Islam ritiene la donna inferiore all'uomo e anche la concezione della famiglia, del matrimonio è profondamente diversa. Oggi però noi dobbiamo confrontarci anche con queste confessioni e cercare di comprendere se, al di là delle affermazioni di principio, poi nella realtà concreta e nelle leggi degli stati islamici, il principio di eguaglianza in qualche modo sia stato introdotto e il fatto che la sharia sia solo una legge religiosa e non civile possa in un certo senso essere affermato. Ci sono stati islamici che hanno questa concezione, per esempio la Tunisia, ma la preoccupazione che abbiamo è quella che i principi di carattere generale, monistici, con una sottoposizione del potere temporale al potere spirituale, possano trionfare. Sarebbe la sconfessione della civiltà occidentale che nelle sue radici ha la civiltà cristiana. Ombretta Fumagalli ci ricordava attraverso questo suo escursus che la storia è importante. Oggi c'è un po' la sensazione che si viva come se il 90, non so, l'89 sia l'ultimo grande passaggio della storia, per esempio, per dire un ricordo che alcuni addirittura non hanno neanche più. Sì, la storia è importante e contrariamente a quanto qualcuno ha teorizzato, nell'immediato dopo 89, non è finita, nel senso che non siamo giunti alla realizzazione di uno scopo che la storia avrebbe avuto e che sarebbe stato realizzato con la fine della guerra fredda. Però se da una parte certi conflitti ci sono già stati, credo che la situazione che stiamo affrontando oggi sia veramente radicalmente nuova e lo sia dal punto di vista materiale, cioè la possibilità di incontrarsi, la rapidità con cui ci si incontra oggi in ogni angolo della terra non è mai esistita. La possibilità con cui si viaggia, con cui quindi le culture per forza di cose si mischiano è una novità assoluta, è in qualche modo un problema del tutto nuovo che in queste dimensioni non abbiamo mai conosciuto e quindi la portata, le dimensioni di questa sfida sono direi molto nuove. Dentro questa esperienza di difficoltà, di rapporto, comunque di ritrovare una nuova identità, un nuovo modo di incontrarsi delle identità eccetera, il singolo però che ruolo ancora gioca? Cioè l'impressione spesso che si ha è che siamo in una specie di ingranaggio globale in cui noi abbiamo poco da dire. Per cui da una parte siamo coinvolti, ci sembra di essere in contatto col mondo, però d'altra parte la sensazione è che uno non possa far granché. Che rapporto c'è fra la possibilità che i singoli hanno e le dimensioni più globali che incontriamo? Uno deve sempre in primo luogo vivere la sua vita, insomma il cristianesimo ci insegna in qualche modo proprio questo. D'altra parte noi viviamo comunque nel mondo. Da questo punto di vista è interessante l'idea lanciata dal professor Gerosa quando parla di identità multiple, cerca di farlo in termini giuridici, facendo riferimento proprio anche all'esperienza svizzera. Noi siamo contemporaneamente ticinesi, ma siamo anche svizzeri, ma siamo anche cattolici o protestanti, siamo anche di un comune, siamo anche di una lingua. E spesso siamo di origini straniere. E spesso siamo di origini straniere e talvolta in funzione di ognuna di queste identità abbiamo anche dei diritti diversi, proprio una costruzione giuridica a cui possiamo far riferimento diversa e che riesce comunque a convivere. E credo che sia interessante evitare di parlare di un'identità unica, fissa, cioè in realtà noi siamo molte cose. Il tentativo di semplificazione che una parte della cultura moderna ci propone e i mass media in particolare cercano di veicolare, riducendo sempre tutto all'uno contro uno, al bianco o al nero. Ma in realtà il mondo e la vita sono belli perché sono variati, perché sono multiculturali. Se pensiamo agli schermi dei computer, i primi che abbiamo visto erano bianco e nero, due colori, ed erano un po' così. Poi sono arrivati i toni di grigio, poi i 16 colori, i 256, oggi sono i milioni di colori. E sono molto più belli, insomma, sono molto più rappresentativi, cioè riescono meglio a rappresentare la molteplicità di tutti i fattori. Uno dei problemi oggi è quello di credere che bisogna ridurre tutto al bianco e al nero, ha un'interpretazione manichea del sì sì no no, ma in realtà noi siamo fortunatamente per tante cose e ognuno di noi in ultima analisi è irriducibile a una cosa unica. In questo senso, veniamo un po' alla nostra realtà proprio locale. Allora, la Svizzera si pensa in fondo, alcuni dicono la sua struttura politica, giuridica, in qualche modo è un po' superata perché anche noi siamo diventati vittime, per esempio, delle polarizzazioni all'interno, per esempio, della vita politica, eccetera. Da questo punto di vista, in realtà, si potrebbe dire che la Svizzera rappresenta ancora un modello nella capacità di conciliare le diverse identità. Ma sicuramente, evidentemente, siamo anche noi un periodo di difficoltà dove qualcuno è tentato di trovare queste soluzioni di tipo bianco e nero pensando che funzionano meglio. In realtà non è così, cioè noi non siamo un modello naturalmente immediatamente riproducibile anche solo per una questione di dimensioni, ecco, quanto funziona con 6 milioni di abitanti funziona con molta più difficoltà, con 60 o con 600 milioni. Però questo concetto di identità multipla di ogni Svizzero è sicuramente in qualche modo riproducibile a livello europeo, anzi diventerà sempre di più così, cioè noi saremo contemporaneamente europei, ma saremo anche italiani, lombardi, eccetera, noi svizzeri, ticinesi, ma anche del sottoceneri, insomma, ecco, ci sono… e tutto questo costituiscono in qualche modo tutta una serie di identità che si intrecciano all'interno di ognuno di noi. A me non resta che ringraziare Fulvio Pezzati di essere stato con noi e darvi appuntamento alla settimana prossima. Arrivederci.